Assegnato il campo vettoriale F minuscolo pari a Y per il versore I più Z per il versore Iota meno X per il versore K e la superficie S XYZ appartenente a R3 tale che X quadro più Y quadro più Z quadro sia pari a 16 con Z maggiore o uguale di 0 orientata verso l'alto ci chiedono di calcolare il flusso del rotore di F attraverso la superficie S. Esercizio che si può risolvere come abbiamo visto anche in altri casi in due modi quello più veloce che magari ci può servire come verifica lo facciamo dopo è l'applicazione del teorema di Stokes quello un pochino più lungo è proprio andare a calcolare il rotore di F la normale farne il prodotto scalare e a quel punto puoi risolvere come al solito il nostro classico integrale doppio. In questo caso abbiamo che S che come vedete è una sfera, una semisfera, si può parametrizzare in coordinate sferiche in questo caso del tipo, attenzione che parliamo di una sfera di centro all'origine e raggio 4 quindi scriveremo x uguale, attenzione che c'è da, in questo caso ovviamente il raggio lo conosciamo e vale 4 i due parametri, i due incogniti sono θ, la colatitudine e la longitudine φ quindi abbiamo un 4 in questo caso seno di θ coseno di φ y uguale 4 seno di θ seno di φ z uguale 4 cos θ vi ricordo che io per θ indico la colatitudine e per φ la longitudine c'è chi invece fa il contrario, è la stessa cosa in questo caso attenzione che θ è variante ovviamente fra 0 e π mezzi φ è variante fra 0 e 2π e a questo punto lo rimane dato per calcolare il calcoliamo lmn ovviamente si potrebbe calcolare la normale che l fratto più o meno radici di egime di f quadro m fratto m maiuscolo fratto più o meno radici di egime di f quadro e n maiuscolo fratto più o meno radici di egime di f quadro con la radice di egime di f quadro in questo caso si va a semplificare con il desigma che è appunto radici di egime di f quadro quindi non c'è bisogno di calcolare le componenti in tutte quante della normale basta calcolare le costanti l maiuscolo, n maiuscolo ed n maiuscolo l in questo caso vale calcoliamo qui sotto y' rispetto a θ che è 4 coseno di θ coseno di φ z' rispetto a θ che è meno 4 senθ qui abbiamo 1,0 perché la derivata rispetto a φ di z è 0 la derivata rispetto a φ di y è un 4 senθ cosφ e in questo caso otteniamo un 16 perché meno che non ne fa più sen quadro θ cosφ se calcoliamo m vi verrà un lo facciamo ma avete già intuito quanto verrà abbiamo un derivata rispetto a θ rispetto a φ di z che sono queste due meno 4 senθ è 0 e la derivata rispetto a θ rispetto a φ in colonna della x che in questo caso è un 4 cosθ cosφ ed è un meno 4 senθ senφ e come vedete il risultato è un 4 sen quadro θ senφ calcoliamo n questa è la strada più lunga n vale le derivate parziali della x in colonna fatta rispetto a θ e fatta rispetto a φ sono rispettivamente un 4 cosθ cosθ e un meno 4 senθ senφ abbiamo fatto anche quelle in colonna rispetto a θ e rispetto a φ della y che sono un 4 cosθ senφ ed è un 4 senθ cosφ 16 senθ cosθ cos quadro φ più 16 senθ cosθ sen quadro φ 16 senθ cosθ è il risultato ovviamente perché però raccogliendo a fattore comune cos quadro φ più sen quadro φ per la prima relazione fondamentale dell'economitica se ne va a 1 e questi sono ln e lo scriviamo qua 16 senθ cosθ a questo punto dobbiamo calcolare solamente il rotore del nostro campo rotore di lettera f minuscolo come potete vedere abbiamo un la prima parte è 0 la prima parte è meno 1 perché vediamo che z' rispetto ad y è 0 meno y' rispetto a z che è un ovviamente se questa è la chiave x grande questa è y grande questa è z' abbiamo un meno 1 per il versore i x' rispetto a z che è 0 meno z' rispetto ad x che in questo caso è un 1 perché meno per meno è più più 1 per i y' rispetto ad x che è 0 meno rispetto ad y che è appunto 1 col meno meno 1 quindi meno 1 per k quindi in definitiva abbiamo meno i più i meno k ovvero meno 1 1 meno 1 in pratica e quindi questo abbiamo che il il flusso del rotore di f attraverso s è l'integrale doppio del senso a d vediamo di che cosa d meno meno 1 per quello meno 16 se inquadro teta coseno di fi questo è un 16 ovviamente ho scritto un 4 ma questo è un 16 meno 16 ho scritto lì un 4 ma era m ovviamente era un 16 meno 16 senquadro teta seno della longitudine fi meno 16 sen teta cos teta d teta d fi uguale dobbiamo risolvere allora qui possiamo raccogliere questi due vedete scrivi due addendi un meno 16 senquadro teta e quello che rimane è un cos fi più sen fi quindi possiamo scrivere l'integrale decomponendo tra 0 e 2 pi greco di d fi per l'integrale fra 0 e pi greco mezzi di cos fi più sen fi che moltiplica questo meno 16 senquadro teta meno 16 sen teta cos teta tutto quanto in d teta allora direi di scrivere un meno 16 davanti l'integrale fra 0 di pi greco di allora l'integrale di sen quadro teta per ricordo è un mezzo che moltiplica teta meno sen teta cos teta ma un mezzo che moltiplica teta meno sen teta cos teta se noi andiamo a comprendere fra 0 e pi e con mezzi la parte in 0 è tutta quanto a 0 questo è 0 perché il coseno di pi e con mezzi è 0 e poi il seno di 0 è 0 rimane solamente un pi e con mezzi per un mezzo quindi un pi greco quarti quindi qui rimane un pi greco quarti che moltiplica un cos fi più sen fi mentre invece meno 16 l'abbiamo parato fuori l'integrale di sen teta cos teta immediato vale sen teta al quadrato diviso 2 e sen teta al quadrato è un mezzo sent teta al quadrato compreso fra 0 e pi e con mezzi è un mezzo perché il seno di pi e con mezzi è 1 1 al quadrato 1 1 per un mezzo e un mezzo ma il seno di 0 è 0 0 per un mezzo quindi viene un mezzo quindi qua abbiamo un più un mezzo tutto in te fi e l'ho fatto così ovviamente poi ognuno lo può fare in vari modi ma se andiamo a risolvere a questo punto allora ok intanto possiamo scrivere meno 16 quarti o meno 4 pi greco integrale tra 0 di pi greco di cos fi più sen fi tutto questo è 0 però perché la primitiva di cos fi e sen fi tra 0 di pi greco è seno di 0 e seno di pi greco sono entrambi 0 la primitiva di sen fi è meno cos fi ma tra 0 di pi greco è 0 perché viene una cosa meno l'altra viene sempre 1 meno 1 0 quindi in pratica abbiamo un meno 16 mezzi quindi un meno 8 integrale tra 0 di pi greco di di fi ovvero un meno 16 pi greco che è proprio il risultato di questo esercizio meno 16 pi greco questo è un modo l'altro modo molto più veloce evidentemente è quello di applicare il teorema di Stokes ovvero il teorema di Stokes ve lo ricordo in forma di campo vettoriale non si può esprimere in questo modo l'integrale superficiale esteso ad S del prodotto scalare fra il rotore del campo vettoriale F e la normale N uscente da S in Dσ può essere scritto come l'integrale curviligno esteso al bordo della superficie S in questo caso percorsa nel verso coerente antirario positivo del prodotto scalare fra il campo vettoriale F e il il versore tau versore tangente al bordo di S e tutto quanto in Ds N quindi è la normale uscente da S tau e il versore tangente al bordo di S ovvero la formula quindi è l'integrale esteso ad S del rotore di F minuscolo scalare N in Ds esteso di sigma e l'integrale esteso al bordo di S del prodotto scalare fra F e il versore tangente al bordo in ovviamente di S chi è il bordo di S in questo caso beh il bordo di S è un cerchio di centro origine e il raggio 4 x uguale a 4 con T andiamo a parametrizzarci il nostro il nostro bordo la nostra curva a bordo di S y uguale a 4 centi e Z ovviamente uguale a 0 con T chiaramente compreso fra 0 e 2 p questo è un attimo perché abbiamo che se Z è 0 questa parte non c'è il DZ è 0 questa parte non c'è c'è solamente da fare quindi l'integrale fra 0 e 2 pi greco questa è una controprova benissimo è una verifica insomma oppure se ve lo chiedono fate direttamente questo ovviamente spiegando cosa consiste il teorema di Stokes ovviamente l'integrale fra 0 e 2 pi greco di y che è un 4 centi moltiplica meno 4 centi perché il dx è la derivata di 4 costi che è meno 4 centi dt ovvero meno 16 integrale fra 0 e 2 pi greco di sen quadro di t in dt la cumprimitiva è un mezzo che moltiplica t meno centi cos t spero che prima di aver messo il meno perché dopo di sì quindi abbiamo un meno 16 per un mezzo t meno centi cos t tra 0 e 2 pi greco anche qui il secondo di pi greco è 0 per 1 0 il secondo di 0 è 0 0 per 1 fa 0 questo è 0 c'è solamente un 2 pi greco vedete che viene un meno 8 che moltiplica un 2 pi greco e vedete che in effetti la conferma è che il risultato il flusso della torre di f proprio attraverso la superficie che ci sta assegnata questa semisfera è proprio meno 16 pi greco grazie a tutti